butta oggi in tv la nuova stagione di ballarò in onda tutti i martedì in prima serata sul rai 3 la guida e lo staff della popolare trasmissione sociopolitica è cambiata giovanni floris ha detto giova lascia ballarò dopo 12 anni di conduzione per andare a far concorrenza sulla 7 con la nuova trasmissione di martedì portando con sé il satiro comico maurizio crozza anche lui lascia ballarò dopo sette anni di esilaranti copertini per lanciare la prima puntata di ballarò il nuovo produttore massimo giannini e la rai calano sul tavolo la carta da 90 roberto benigni ospite che cercherà di portare immediatamente lustro ed esposizione mediatica alla nuova guida della trasmissione ma la stessa ora sulla 7 il collaudato team floris ballarò cercherà di strappare ascoltatori alla rai con il talk show politico appunto di martedì non sarà facile per giannini e ballarò competere con una macchina collaudata e radicata come quella di floris e crozza staremo a vedere chi la spunterà nella dura battaglia che lo sceglie nella prima puntata di ballarò non ci sarà il presidente del consiglio matteo renzi che deserterà per impegni anche la concorrente di martedì tuttavia l'ex premier romano prodi e soprattutto roberto benigni sono lo zuccherino che porterà ascolti alla prima puntata il piccolo diavolo toscano appare in tv gratis un regalo a sorpresa ben gradito a ballarò e alla rai saranno presenti in studio anche il sottosegretario graziano del rio e probabilmente il direttore del corriere della sera ferruccio de bortoni la sigla musicale aranciata dal grande ivano fossari il voglio amianti darà un contributo culturale ci sarà la sondaggista alessandra ghisleri e nel finale della trasmissione la sitcom il candidato con filippo t grazie a tutti